Eccoci, 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 bentornati all'appuntamento della Sabino del Bene con il podcast Double Face, un podcast con Fabio Ferri, ma soprattutto Veronica Angeloni. Ciao Veronica! Ciao a tutti, ciao Fabio e ciao Francesco, l'ospite della giornata che ovviamente lo riconoscete, lo vedete, tante sorprese, ma adesso... La nostra sigla! La nostra sigla! La fortuna di avere qua con noi il DS della Sabino del Bene, Francesco Paoletti. Ciao Francesco! Non la chiamerei fortuna, ma comunque è un esordio. Allora, Francesco ha detto che non ha mai visto un episodio, mentendo scudoratamente, perché lo so che invece è un grande fan di Double Face e ovviamente non dobbiamo spiegargli come funziona la nostra puntata classica. Di solito partiamo dall'attualità e allora io parto proprio da quanto è successo nella giornata di ieri, visto che stiamo registrando di lunedì, ovvero quanto è successo domenica sul campo di Chieri, vittoria importante per la Sabino del Bene che si è imposta per 3 a 1. Ripartiamo da qua, da quella sfida e dal significato che aveva. Intanto io vorrei partire parlando del Trespolo dove sono seduto, che ormai è diventato estremamente famoso nel mondo dei podcast, quindi è un onore avere questa comoda seduta durante questo appuntamento. Noi c'eravamo anche detti che avresti potuto scegliere un trono più consono al ruolo di direttore sportivo. Ieri proposto per una seduta migliore, ma questa è una comodità che non è obbligata. La riserveremo per uno sviluppo dell'edizione nel prossimo anno. Bene, bene, bene. Tornando a temi più seri, ieri sì abbiamo avuto questa partita molto importante, perché seguiva ovviamente il turno dei quarti di Champions League che purtroppo non ha avuto un'evoluzione positiva e era tutt'altro che semplice, uno per il valore dell'avversario, due perché la gara era in trasferta, tre per le implicazioni di carattere non solamente tecnico ma anche emotivo che questa gara portava con sé. Veronica da ex atleta sa benissimo che dopo una delusione è sempre molto difficile ritrovare le energie e anche mentali per riaffrontare una partita di un certo livello. Quindi penso che la risposta avuta sia stata l'ennesima dimostrazione del valore di questa squadra e delle possibilità che questa squadra ha sicuramente per chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Bene, bene, bene. Hai fatto un accenno anche alla Champions che fa parte del tema attualità senza dubbio. è la penultima partita che ha giocato la Sabino del Bene, un commento te lo chiedo anche per quanto riguarda appunto la doppia sfida con Exa Cibasi e in generale su un cammino che si è interrotto ai quarti di finale della massima manifestazione continentale. Sì, io onestamente mi sono sempre riproposto di non leggere troppi commenti, di non dare molto... non sono social, non amo i social e non amo soprattutto le persone che vivono sui social perché spesso si lanciano in commenti con poca solidità alle spalle. Il nostro è stato secondo me un cammino importante. tornavamo nella massima competizione europea per club dopo alcuni anni in cui abbiamo fatto e vinto le competizioni minori e non è assolutamente banale il percorso fatto. Alla fine abbiamo vinto sei gare su sei nel girone eliminatorio incontrando Exa Cibasi e questo è stato secondo me un risultato molto importante. Nei quarti indubbiamente abbiamo avuto la sfortuna, ricordo siamo passati come seconda migliore delle prime e in maniera inopinata, quasi veramente per uno strano scherzo del destino, abbiamo rincontrato Exa Cibasi che ovviamente ha vinto facilmente il turno dei playoff di Champions. E' inutile dire il valore di questa squadra, è una squadra che per qualcuno che forse è un po' più distratto si è laureata nel mese di dicembre del 2023 campione del mondo, una squadra che l'anno scorso è arrivata in finale Coppa dei Campioni che non è esattamente il torneo del Borgo sotto casa e noi ritengo che abbiamo fatto una serie di quarti di finale estremamente positiva perché abbiamo perso 3-2 fuori casa a Istanbul e 3-2 in casa dove onestamente la nostra squadra secondo me ha avuto più di una situazione all'interno della gara per poter volgere la partita dalla propria parte. Quindi se la domanda è come reputo il percorso fatto, secondo me è positivo perché la mia convinzione è che si arrivi a vincere quel tipo di partite giocando quel tipo di partite solamente giocandole perché lo sport è ancora oggi una delle aree dove non esistono scorciatoie non esistono passaggi più facili, esiste solamente il lavoro, l'esperienza, l'affrontare determinate situazioni e devi perdere prima per poi arrivare a vincere. Penso che il percorso nelle coppe minori Coppa Challenge e Coppa Cev delle stagioni scorse non sia stato banale penso sia stato per noi un percorso fondamentale questo è il decimo anno della nostra storia, il decimo anno di Serie A1 e ritengo che questi step siano assolutamente propedeutici per poi arrivare negli anni futuri a raggiungere sicuramente dei traguardi maggiori che sicuramente sono l'obiettivo di questa società. Ambiziosa ovviamente, la Sabino del Bene lo sappiamo. Sono d'accordo, volevo chiederti una cosa Francesco, nel tuo ruolo, quindi direttore sportivo quindi anche la persona che si interfaccia con gli atleti deve fare sia il buono e il cattivo tempo quando le cose vanno bene magari complimenti e quando le cose vanno male magari concedetemi il termine un cazziato nelle giocatrici, come vista la risposta positiva che hai detto prima tu avuta a Chieri come adesso pensi di fare con la tua squadra per affrontare le partite che ci saranno che sono altrettanto fondamentali perché ricordiamo che siamo a un punto dal secondo posto perché Milano e Novara sono a 53 punti e noi a 52, la Sabino del Bene a 52 quindi come pensi di affrontare le ragazze, cosa pensi di dirgli, dargli dei consigli perché poi adesso abbiamo altre due partite adesso mercoledì contro Pinerolo e poi dopo domenica Novara scontro diretto dimmi tu come sai siamo arrivati nel momento clou della stagione è il rush finale perché ormai sono rimaste quattro gare che sono sicuramente il rush finale e dove ogni partita, ogni punto è fondamentale per acquisire il migliore standing nella griglia dei playoff sicuramente in questo momento la squadra deve ritrovare un attimo la quotidianità del lavoro in palestra che gioco forza viene meno quando si è costretti a giocare, viaggiare e lì perdi sicuramente la quotidianità dell'allenamento che è uno step fondamentale per crescere purtroppo questa settimana rigiocheremo nuovamente un turno infrasettimanale e quindi la dovremo posticipare ma sicuramente questa è una squadra che ha delle qualità tecniche e morali per cui non ha bisogno di essere sollecitata ha sicuramente bisogno di essere messa nelle migliori condizioni di lavoro e questo è quello che faremo anche perché abbiamo sì noi gare molto importanti che ci attendono ma non siamo gli unici anche i nostri diretti competitor come Novara che mercoledì affronterà bravissima, volevo vedere se aveva studiato e quindi abbiamo tutti ormai delle gare estremamente importanti che ci portano da qui alla fine della stagione partite importanti di qua alla fine della stagione ovviamente importanti quelle di regular season per il piazzamento non solo in ottica playoff ma anche in ottica europea importanti poi ovviamente le sfide anche dei playoff con una squadra però che ci dicevi è una squadra comunque con dei grandi valori tecnici e io proprio su questo vorrei andare la domanda forse è un po' scomoda vedi tu se vuoi rispondere o come vuoi rispondere nel caso vada via la linea? nel caso vada via la linea sarà una risposta solo per noi per noi pochi intimi ti voglio chiedere se questa secondo te al decimo anno di Serie A1 è la Savino del Bene volley non so se più forte ma più strutturata per affrontare appunto il campionato del Champions League le squadre si compongono sempre attraverso diverse vicissitudini perché quasi mai le cose si sviluppano come magari avresti immaginato come avresti pensato per mille situazioni di mercato per mille situazioni diverse questa è una squadra che sicuramente ha un'ottima percentuale rispetto a quella che era la nostra volontà iniziale e ritengo che sia sicuramente una delle squadre importanti del nostro campionato oggi come oggi ritengo che se si vede la classifica si abbia una chiara dimensione diciamo dei valori della stagione questo non vuol dire niente perché come si vede poi è facile perdere punti e questa è la bellezza del campionato italiano dove noi stessi abbiamo perso punti a Vallefoglia o a Roma così come Roma è stata altrettanto brava nell'ultimo turno a strappare un punto sul campo di Monza però sicuramente ci sono delle squadre che per ampiezza del roster e per qualità stanno facendo una stagione molto importante non dimenticando neppure che gli impegni nelle coppe europee portano via veramente tante energie quindi non ho mai risposto ai fatti assolutamente benissimo no no era solo per conferma volontariamente volontariamente benissimo 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 Fabio vuoi fare qualche altra domanda di attualità perché io ho delle domande un po' più allora guarda non sono propriamente di attualità ma se vuoi continuo su un filone più sportivo vai no no anche la mia è sportiva ma allora vai prima tu e ci alterniamo ok allora perché puoi fare domande non sportive perché giustamente questo podcast deve far conoscere i nostri personaggi allora volevo chiederti una cosa chi c'è oggi il personaggio hai visto? penso un po' allora volevo chiederti una cosa che secondo me è molto importante davvero da far sapere a casa ma anche a me incuriosisce hai un ruolo importante in una società molto importante volevo sapere come si diventa direttori sportivi di una squadra così blasonata perché comunque l'assemino del bene si sa è un top livello di serie A quindi come ci si arriva in un percorso così a fare un ruolo così importante? per gradi come tutte le cose inizi partendo da dei ruoli dirigenziali ovviamente minori e poi piano piano come in tutti gli ambiti lavorativi si cercano le opportunità per poi provare a crescere ok ma se qualcuno a casa vorrebbe cioè tante persone li vogliamo dissuadere no non è vero no perché comunque è un ruolo bello cioè in senso da casa magari sai le persone dicono anche io vorrei fare quello da grande magari i giovani che ci seguono e con noi vorrei diventare direttore sportivo di una squadra qualche consiglio da dare serio uno psicologo di supporto niente volevo fare una domanda seria o quando te le faccio io non sei mai serio allora la domanda seria prevede una risposta seria la risposta seria è che è un ruolo estremamente importante così come è estremamente complesso perché avere a che fare nelle situazioni organizzative di queste società è senz'altro un compito estremamente gratificante ma così come altrettanto sicuramente a volte devi avere a che fare con notevoli pressioni e situazioni di diversa natura dove molto spesso devi essere un po' quello che io dico un equilibratore cioè devi cercare di tenere sempre la retta via la giusta direzione cercando ovviamente di mantenere in equilibrio tutte le varie componenti questo non sempre è facile da tenere ma sicuramente quando riesci è altrettanto gratificante così come ripeto sembra molto semplice scegliere le situazioni migliori i giocatori migliori in realtà tutto questo non è mai così scontato banale perché ogni situazione ha dei risvolti risvolti che poi ovviamente spesso all'esterno non si conoscono ma li conosce solamente chi condivide nella quotidianità l'ambiente di lavoro che per noi è la palestra sicuramente è un compito affascinante, importante che negli ultimi anni ha cambiato anche un po' la sua natura perché oggi il direttore sportivo non è solamente la scelta del giocatore ma soprattutto secondo me la sua peculiarità nella gestione delle situazioni durante la stagione che sono tutt'altro che scontate anche perché un gruppo non è formato dai 14 atleti ma come dico io sono 14 atlete, a proparentesi donne 10 membri dello staff, una componente dirigenziale e proprietaria estremamente ampia e variegata esigenze dei nostri amici del reparto media che si devono interfacciare con quello che poi è il programma tecnico quindi ci sono diverse situazioni poi da mettere e da fare allineare procuratori, tutto l'ambiente io volevo parlare della parte più bella però mi piace comunque questo tuo intervento perfetto, perfetto perché è procurato di un momento sono soddisfatta sono una variabile importante di questo mondo, non c'è dubbio ora al di là degli scherzi sicuramente fanno parte come noi di questo mondo e quindi sicuramente sono, ripeto, una componente da considerare all'interno del lavoro a tutti gli effetti perfetto, sono soddisfatta devo dire, sono soddisfatta sono soddisfatta a te rispetto a me aspettavo qualcosa di più però tranquillo, tranquillo, tranquillo ma le posso fare anch'io? no, mi dispiace devo dire che sento questi commenti che sono sui social, che si trovano sui social un po' insomma che hanno toccato no, no io onestamente leggo poco, come sai benissimo io ti ho detto più volte che per mia scelta ho scelto in tempi non sospetti sia nelle situazioni positive che in quelle negative di disertare un po' i social perché secondo me hanno preso nell'ultimo periodo una piega abbastanza negativa nel senso che spesso vengono usati solamente per riversare giudizi sommari da persone che poi peraltro non hanno mai fatto parte di questo mondo e che neanche ne conoscono le dinamiche ma si attengono solamente a delle cose banali a cui appigliarsi però questi sono i tempi attuali penso che si rispecchino anche in altre situazioni ben più importanti che non quella sportiva e quindi fanno parte del gioco però c'è un commento che magari ti ha dato un po' più noia rispetto ad altri? no, io devo essere onesto quello che a volte leggo mi lascia più sorpreso quando magari non sono i tifosi a cui secondo me in una certa misura è anche lecito concedere qualcosa in più ma quando magari sono professionisti del settore che spesso parlano un po' a sproposito senza avere nozione a volte dici no ma il mio numero è questo se vuoi sapere com'è la situazione alza il telefono e chiama e invece è più facile a volte cercare uno scoop se così si può dire fra virgolette fondato sul niente d'altronde oggi è cambiata no? è cambiata l'attualità si va su questi siti, queste pagine web i click, le pubblicità, gli sponsor una dinamica a me abbastanza lontana e se vuoi sconosciuta ma che mi hai spiegato più volte come funziona no io poi non penso di avertelo spiegato poi tante volte anche perché insomma lo sai benissimo anche da solo come funziona questa dinamica social che ci investe tutti poi il nostro volenti o non volenti soprattutto quando si fa sport di alto livello e si è come dire sotto l'occhio del riflettore assolutamente anche perché è un circolo per dieci persone magari che hanno dei commenti negativi ce ne saranno altri tanti se non di più positivi però tutto fa parte del circuito perché poi ormai diciamo che la novità negli ultimi anni perché una novità non è è questo il parlare e l'accessibilità di tutti nel poter parlare i social sono questo rendono accessibile una squadra rendono accessibili i giocatori e quindi nel bene e nel male tutti danno la loro opinione che sia positiva o non ma io ho domande più allora guarda faccio un'altra domanda io dai me ne ero segnata qualcuna perché appunto prima si parlava di come lavora un direttore sportivo quali sono le sue mansioni sicuramente per tutti il direttore sportivo è quello che fa il mercato per la gente che ci guarda da casa il direttore sportivo è quello che poi va a trattare le varie giocatrici in questo io ti voglio dire in questo compito in questo aspetto del lavoro di direttore sportivo c'è un'operazione che ti ha gratificato più di altre non dico per il valore della giocatrice o per la giocatrice in sé ma un'operazione che nella tua carriera di direttore sportivo hai particolarmente apprezzato una volta conclusa hai detto ce l'abbiamo fatta magari devo dire che sono state tutte situazioni cercate, volute, inseguite e quindi poi concluse sicuramente quello che mi dà particolare soddisfazione è quando si riesce a far affermare nella nostra squadra un atleta giovane che sta iniziando un percorso penso che questo sia di grande soddisfazione perché vuol dire che effettivamente si sta lavorando nella direzione giusta questa ritengo che sia la cosa che magari dà più soddisfazione posso farti rispondere e porti un'altra domanda quindi ti piacciono di più le operazioni legate a giocatrici di futribilità piuttosto che magari a giocatrici già fermate la cosa che mi piace di più è riuscire a comporre una squadra che poi ci dia una risposta in termini di risultati e di aspettative per quanto viene richiesto questa è una cosa estremamente complessa che a volte riesce a volte meno a prescindere perché ricordiamo che oltre a mettere insieme 14 giocatrici devi mettere insieme come dicevo prima e ora se ne parla seriamente 14 caratteri diversi che sono moltissimi e non è detto che sempre per quanto forti poi funzionino insieme e questo molto spesso fa la differenza assolutamente del gruppo sì sono d'accordo sono d'accordo il gruppo deve funzionare e non è scontato perché poi ognuno ha il suo carattere quindi ci vuole la giusta amalgama per far funzionare le cose carattere e situazioni diverse perché magari un giocatore un anno si esprime in un certo modo perché ha anche al suo intorno una situazione particolarmente positiva e magari l'anno dopo per una serie X di motivi le situazioni cambiano e questo inevitabilmente si ripercuote sul proprio rendimento sportivo e non tutto è preventivabile quando tu concludi una o l'altra quella azione sono d'accordo bene Franci una domanda che non c'entra molto parliamo di te parliamo di te parliamo allora il direttore sportivo quindi il tuo ruolo hai immagino poco tempo libero pochissimo pochissimo c'è una domanda che è una domanda tipica del podcast la devo fare perché lì da casa ci sono persone che potrebbero sapere questa risposta single fidanzato sposato è vero si deve fare sposato Franci devi essere sincero non mi vedi serio Franci non vedo anelli al dito e non lo porto lo porto al collo fallo vedere insieme alla sveglia sposato con la fede no non è vero è single ragazzi c'è anche Valentino scusate è single è single quindi potete scrivere alzavinodelbenevolley.it proponetevi come atlete come atlete come atlete aspetta però ora c'è una domanda a Veronica Angeloni io non puoi fare le domande a te che sono io che faccio le domande non mi sembra non si cambia il podcast nell'accettare la proposta oramai dovessero in mezzo giù il cane scusate che l'altra volta l'altro ciao Valentino un signore mi ha anche detto bellissimo il cane ma noi vogliamo vedere le ragazze però mi dispiace c'è Valentino hai ragione ma insomma arrivano le puntate Valentino si è vero nel caso Veronica noi dovessimo raggiungere un traguardo sportivo importante che cosa vogliamo promettere ai nostri tifosi che si va tutti insieme a mangiare la pizza l'entusiasmo lo teniamo a bada così ho capito va bene accettabile come iniziativa sa che il direttore sportivo si aspettava un po' di più e Franci verrà con noi e paga tutto Franci a questo sono guarda posso fare la scommessa in diretta non sarebbe perfetto perfetto io invece allora visto che parlavamo di gruppo parlavamo di caratteri parlavamo comunque un po' di 14 persone diverse non solo 14 atleti ma 14 persone molto diverse e siccome abbiamo avuto tante ragazze che sono venute già a trovare ci hanno detto che è un bel gruppo quello di quest'anno ti chiedo la tua sensazione se veramente vedi un gruppo comunque unito più unito di altre volte un gruppo dove questi caratteri magari si sono incastrati anche particolarmente bene è un gruppo che ha sicuramente le sue peculiarità le sue diversità perché anche per fasce d'età non è un gruppo assolutamente omogeneo in quanto abbiamo ragazze più giovani atlete che sicuramente sono più Intu, Linda piuttosto che Kate sono tutte ragazze estremamente giovani poi secondo me c'è un'età una maturità anche mentale diversa non necessariamente un atleta anagraficamente giovane corrisponde una maturità di pari passo sempre però ripeto questo per me è un gruppo assolutamente di grande professionalità e di grande contenuto è un gruppo che lavora veramente molto con uno standard molto alto ricordo che una delle prime sedute a inizio stagione in cui ci siamo allenati al completo a un certo punto mi sono fermato durante l'allenamento e ho detto cavolo che bel livello di pallavolo che sto vedendo in allenamento che non è scontato perché noi molto spesso parliamo di questo livello come di una cosa abbastanza banale abbastanza semplice da ricreare ma se un giorno poi vorremmo affrontare anche altri temi così come la concorrenza che il campionato italiano dovrà affrontare nei prossimi anni per via delle nasciture leghe oltroceano o di altre situazioni penso che ci dovremo aspettare in futuro una diminuzione del nostro livello e quindi non va banalizzato quello che oggi noi abbiamo perché è una lega altamente competitiva con giocatori molto forti con giocatrici veramente forti che dà un grande aspettato gli Stati Uniti possano fare il ruolo nel volley che sta ricoprendo in questo momento il campionato saudita per il calcio io penso che gli Stati Uniti abbiano già provato in passato a partire con una propria lega non ha avuto grande fortuna penso che stavolta sia un po' diverso l'aria che si respira intorno a questa lega a questa nascitura lega sia diversa c'è grande attesa da parte un po' anche degli operatori di mercato c'è grande attesa da parte di diverse atlete che comunque stanno vedendo stanno guardando a questo orizzonte in maniera diversa come un'alternativa credibile e questo secondo me può essere sicuramente anche un rischio nell'immediato di impoverimento per il nostro campionato poi penso che come sempre riusciremo a trovare delle situazioni alternative delle misure alternative per combattere questa situazione però c'è questo rischio e quindi secondo me è giusto anche quando si hanno questa qualità di giocatori in Italia dare anche il giusto risalto al prodotto che in questo momento noi riusciamo a mettere in mostra e a far godere a tanti tifosi giusto io a proposito mi hai fatto inerimento una domanda che secondo me è molto importante perché oltre al fatto di avere un bel gruppo come quest'anno ti è mai capitato nella tua carriera invece di dover gestire caratteri difficili o giocatrici che possono succedere prime donne no io sono stata una sorpresa di la verità che me l'avevi detto lo devi dire anche davanti al loro una sorpresa anche il senso positivo positivo hai detto tu fino a sorpresa ci poteva stare un po' di ambiguità no 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 volevo chiedere ti è mai capitato invece di avere appunto delle atlete difficili caratterialmente da gestire e da integrare nel gruppo perché magari più solitari prime donne insomma comunque si sa alla fine negli anni può succedere quindi ti è successo e come l'hai gestita se sì ogni atleta ogni persona è diversa ognuno ha il proprio carattere secondo me non è necessariamente obbligatorio che poi le atlete lo sai benissimo debbano per forza essere amiche o andare a cena al di fuori del campo quello è un aspetto che quando c'è ottimo perfetto bellissimo ma non può essere imprescindibile in ogni contesto lavorativo c'è chi trova maggiore affinità con una persona chi non ne ha con altre ma questo non deve ovviamente influenzare oltre misura quello che è il rapporto lavorativo e così questa dinamica si deve riportare un po' in palestra cioè fuori dal campo è giusto che ognuna frequenti chi sente più affine caratterialmente ovvio che poi dentro al campo regno sobrana il fatto che ogni atleta si metta a disposizione per il compagno che avvicino e per la collettività nell'ottica del raggiungimento di un traguardo di gruppo ma ti è successo di avere difficoltà e trovare la chiave ovviamente senza minimamente dire a volte la trovi a volte non la trovi a volte è più semplice a volte è meno semplice a volte risulta veramente complesso perché magari sono persone che comunque sono molto diverse anche da te stesso come atteggiamento cerchi di fare ovviamente sempre il meglio possibile ok allora intanto siamo già oltre la mezz'ora che è la Francesco Sicilieri ancora cinque minuti perché insomma di temi ce ne sono tanti attendo volentieri le domande di Veronica però vedo le scansa abilmente la paura delle ritorsioni probabilmente poi per ultimo faremo anche la domanda quella che tu sai quella che tu sai io ho una domanda che è nata anche un po' da una discussione insomma dal chiacchierare con Veronica e anche da questi appuntamenti che abbiamo fatto di Double Face prima si parlava di donne perché appunto tu lavori con 14 atlete donne e con uno staff invece che è completamente maschile se si esclude la dottoressa Fabri perché secondo te in Seria 1 non ci sono allenatrici donne? Ma io questa domanda me la sono fatta anche recentemente perché non nego che in diverse situazioni quando si va a fare la costruzione dello staff questa è una cosa che più volte ho pensato tant'è che proprio in passato abbiamo fatto la scelta di inserire all'interno della nostra struttura un team manager che sia donna è vero dimenticavo anche Simone perché secondo me scusa Simone no ma intanto non se la prende no no se la prende invece invece c'è anche Simone una music manager team manager perché non è staff lei è proprio gruppo ragazza gruppo ragazze scusate 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 scusa soprattutto fa parte sicuramente dell'ambito dirigenziale e per me questa diciamo presenza femminile anche in quell'ambito lì ti fornisce un punto di vista diverso certo perché inevitabilmente siamo si tende a ragionare comunque o apporsi nelle situazioni in maniera diversa e questa è una cosa che abbiamo voluto inserire in passato dal punto di vista tecnico la mia risposta è molto semplice perché secondo me numericamente la possibilità di scelta è molto ridotta se io oggi vado a fare statisticamente numericamente un elenco di staff di A1 e A2 femminile tranne Elisa Cella a Vicenza in Serie A2 io ho difficoltà che peraltro è una nostra togliere la salutiamo perché è molto in gamba io ho parlato con lei campi bisensi diamo le giuste connotazioni geografiche facciamogli anche in bocca al lupo perché io ho avuto modo di parlare di questa cosa in un evento molto importante sulle donne del fatto di poche donne a comando delle squadre lei si sta facendo spazio piano piano non è facile me l'ha raccontato quindi facciamo in bocca al lupo approfittiamo ma io conosco Elisa fin da quando giocava a pallavolo e secondo me questo è esattamente il percorso che chi vuole arrivare deve fare a mio avviso non c'è una distinzione fra uomo donna c'è la distinzione fra bravo non bravo questo è quello che deve valere giustamente io peraltro ho avuto la possibilità anche in passato di lavorare con Simonetta Valle che è stata una delle pochissime allenatrici in A1 femminile per tanti anni e devo dire che ripeto questo non fa che avvalorare il mio pensiero nel senso che la distinzione non deve essere fra allenatore uomo allenatore donna deve essere fra bravo meno bravo questa è l'unica cosa poi ogni allenatore che vuole emergere deve mettere in conto sicuramente di fare un percorso una gavetta se la vogliamo così chiamare che preveda degli step di crescita e poi se uno dimostra di essere bravo lo porteranno a emergere giusto giustissimo c'è una giudatrice tra quelle che hai avuto che hai detto la vedrei in un futuro come allenatrice ma tendente a questo ruolo secondo me è un po' molto spesso il ruolo del palleggiatore perché ha nell'approccio alla gara nella gestione della partita una serie di considerazioni tattiche o caratteriali o emotive da tenere insieme che riproducono un po' la figura se vogliamo dell'allenatore poi secondo me l'allenatore è un mestiere molto diverso lo dimostra il fatto che sempre per quello che penso io non è assolutamente scontata l'equazione che è un grande giocatore corrisponde a un grande allenatore quello che io trovo molto spesso è che chi ha avuto un percorso chi ha scelto di fare l'allenatore è stato bravo perché ha smesso la carriera da giocatore e si è messo a studiare nuovamente perché puoi portare le tue esperienze da giocatore ma non basta solamente quello molto ti devi rimettere a studiare reimparare anche alcune cose e soprattutto saperle trasmettere che poi è la parte più difficile spesso giustissimo non so se abbiamo ancora tempo ma c'è una domanda una diritta dai altre due tre devo dire che il tempo non è scaduto per la fascia oraria ma per la tolleranza questo triste veramente triciclo dai dì la verità che è una cosa innovativa che abbiamo pensato noi grazie a Mario che ci ha ceduto momentaneamente questo fantastico triciclo c'è una domanda allora che team sei cane o gatto beh io cane assolutamente lo sapevo bravo Francis chi è uscito non so come potrebbe essere diversamente però volevo schiacciare nuovamente ormai abbiamo un'ampia un'ampia rappresentanza di cani ora senza nulla togliere a Valentino che personifica le miniature ma il mio partito è quello dei Labrador quindi avendone due non poteva essere diversamente dispiace per Fabio perché punteggio a ruola una ma è tipo siamo un 12 a 1 forse ma si vabbè direi una vittoria schiacciante si esatto esatto hai un'ultima domanda ma allora guarda una ultima pop e un'ultima per chiederti qualcosa sulla squadra l'ultima pop è a proposito del sport questa la faccio sempre ci tengo a farla è se Francesco Paoletti ha uno sportivo una sportiva preferita anche fuori dal mondo della pallavolo io sono abbastanza onnivoro nel mondo dello sport lo sai benissimo che io seguo dal basket all'atletica leggera calcio sono veramente tutto quello che è sport mi affascina a 360 gradi devo dire che l'ultima ultimamente la cosa che mi ha colpito di più che ancora mi ricordo abbastanza bene è il discorso di Antetokounmpo sul fallimento nello sport te lo dico io non lo condivido non condivido il discorso di Antetokounmpo lo andrò a cercare vai a vedertelo vai a leggerlo è stato ripreso da diverse fonti e secondo me è la risposta durante una conferenza stampa a una domanda che gli viene posta da un giornalista riguardo a un'eliminazione sul fallimento che impediva il raggiungimento dello scudetto della vittoria del titolo e quindi l'associazione della parola fallimento alla sconfitta sportiva ecco questa qui è stato un momento secondo me interessante perché non era la classica risposta banale data giusto per soddisfare un giornalista in conferenza stampa ma presupponeva sicuramente un ragionamento dietro quindi Giannis dai uno degli sportivi che ti piacciono in questo momento non solo per il campo non adoro particolarmente il mondo dello sport in America negli Stati Uniti perché secondo me è una filosofia che diametralmente opposta profondamente diversa da quella europea cioè lo sport negli Stati Uniti è spettacolo mentre da noi in Europa ancora oggi lo sport si fonda un po' di più su quello che è il principio delle Olimpiadi e che nasce ad Atene che è un po' diverso che è il raggiungimento di un obiettivo sportivo quindi non è esattamente la mia cultura sportiva quella oltreoceano però ci sono degli spunti io prendo spunto da tutte le situazioni Prianis è greco quindi è europeo tipicamente tipicamente greco vabbè ma poi ormai grande atleta grande storia di vita di grande storia di come dire è emerso da una situazione veramente faceva il buco un prato di fatto si può dire si da una situazione sociale sicuramente non non eletta a diventare una stella dell'NBA questo vuol dire che ripeto nello sport molto spesso i sacrifici poi trovano sono ripagati chiusura noi ovviamente ti auguriamo un buon lavoro per questo finale di regular season e per l'inizio dei playoff io chiudo però con una domanda Francesco Paoletti al termine della stagione sarà contento se se terminiamo il nostro percorso consapevoli del valore di questa squadra e se questa squadra avrà la consapevolezza del proprio valore non potrà che raggiungere il risultato in pari con le nostre aspettative quale sarà lo scopriremo solo prossimamente pensavo solo vivendo più o meno più o meno però è chiaro lo sport oggi lo abbiamo visto più volte cioè ci sono valori assolutamente molto vicini con Monza trovo che in questo momento ci sia una squadra che in Europa e forse anche ci possiamo allargare fa un altro sport dobbiamo rendere merito a un gruppo dirigenziale tecnico che sta lavorando molto bene Conegliano in questo momento è una squadra che sta facendo un percorso netto dati alla mano la classifica dice che su 22 giornate ha vinto 22 partite se andiamo a vedere non esiste un ruolino di marcia così nessuno dei maggiori campionati europei Turchia Polonia Germania Francia Russia questo vuol dire che è un qualcosa di eccezionale quello che loro stanno facendo non è la norma è un qualcosa di eccezionale che hanno raggiunto grazie a bravura delle atlete e di chi sta intorno sul resto delle situazioni la classifica date alla mano i numeri ci dicono che la differenza è sempre nei dettagli e quindi devi stare lì e arrivare al momento giusto nella partita giusta nel migliore dei modi in modo da riuscire a portare al massimo le possibilità di sovvertire magari i pronosti o di fare il tuo meglio giusto giusto bene siamo andati davvero lunghissimi oltre 40 minuti la puntata col direttore del resto richiedeva approfondimento maggiore probabilmente perché erano tante le tematiche da affrontare da trattare ne sono rimaste fuori tantissime io avrei voluto farti altre 100 domande ma il tempo a nostra disposizione termina qua quindi ovviamente seffiate i bravi cambiate la seduta vi prometto una replica ti rinviteremo magari in fase post tutto playoff campionato chiusura della stagione faremo un resoconto finale faremo un bel bilancio facciamo un bel bilancio a fine stagione intanto per il tredicesimo episodio di Double Face è tutto io vi ricordo ancora una volta che molti di voi la stragrande maggioranza delle persone che guardano gli appuntamenti del podcast non sono registrati al nostro canale quindi fate clic sulla campanella iscrivetevi che ci fa piacere io rubo solamente un secondo interrompendo Fabio per salutare i nostri tifosi che ieri ci hanno seguito a Chieri e ho ritrovato una rappresentanza dei tifosi in trasferta dopo qualche tempo estremamente rumorosi avevano fatto un esordio a Trieste in occasione della semifinale e ieri in questa gara molto importante per noi erano di nuovo al nostro fianco e trovo quindi assolutamente importante ringraziarli della loro presenza al fianco delle ragazze bravi Bianco Blues bravissimi continuate così e in generale bravi tifosi che vengano a vederci anche se non fanno parte della tifoseria organizzata insomma ci fa sempre tanto piacere vedere Palazzo Vanni Pieno oppure vedervi al seguito in trasferta è davvero tutto stavolta un saluto e ci vediamo al prossimo episodio al prossimo ciao ciao ciao